Le più diffuse pastiglie di sale per l'addolcimento sono di sale iperpuro. È un sale ricristallizzato che si ottiene con un processo industriale complesso. Si pompa acqua dolce nel sottosuolo per sciogliere ed estrarre un sale poco puro. La salamoia che ha il 30-40% di impurità si deve depurare con additivi chimici. I fanghi di scarto, il 30-40% del prodotto, devono essere smaltiti come rifiuti speciali. La salamoia viene ricristallizzata portando la debollizione. Ecco il sale purificato. Ci sono però anche le pastiglie di sale naturale, che nasce con elevato grado di purezza. Un sale con un altissimo grado di purezza naturale si estrae, si macina e si compatta con un processo solo meccanico. È Depurel e garantisce la massima efficienza nella rigenerazione delle resine senza chimica, senza fanghi e con meno energia. Ora lo sai che puoi scegliere l'addolcimento naturale con Depurel, amico di natura.